Alle otto e mezza voi avrete gli assistenti sul pullman che vi informeranno di tutto e mi raccomando di seguire le loro disposizioni perché è questo che ci permette di funzionare senza creare inconvenienti con un gruppo così grosso, cioè partono nove pullman di cui due doppi. Pensate sempre, se dovrete magari fare qualcosa che vi sembra non brevitissimo ricordatevi che fa parte di un'organizzazione molto popolessa. Allora dicevo, la mattina dopo quando si è avuto le cartoline, noi ragazzi abbiamo realizzato delle cartoline di alcune delle quali state vedendo le immagini. In esse hanno preso veste grafica le nostre riflessioni sul tema delle guerre. Le immagini e gli scritti intendono denunciare i soffrusi di cui molti uomini sono oggi vivi, laddove interversano ancora logiche di violenza assurde e bestiali. Delle cartoline prodotte abbiamo realizzato delle copie a disposizione dei dictatori dell'amore. Quelle, francia, evitano, o qualche cosa sua, francia di un libro. Questa caratteristica è che si diciamo la stazione della questione positiva. E la stazione significa favorire una delle due stazioni, e in questo caso sarà quella più importante.